Per sostenibilità è abbastanza complesso come argomento perché l'abbiamo già affrontata in chic da un po' di anni, ci sono tantissimi lati da poter vedere, non è una cosa molto facile da praticare. Già nel nostro piccolo qui in questo ristorante l'abbiamo fatta, alcuni ingredienti però purtroppo non lo sono ancora. Il futuro penso avverterà sempre più su una sostenibilità perché il futuro è verso questo sviluppo, sempre più sentito e sempre più cercato. È normale che se vogliamo mantenere il nostro pianeta sano e vogliamo mantenerci sempre più sani anche noi per quello che mangiamo. Il nostro scopo, quello di uno chef, è sempre quello di non alterare più di tanto la materia. Trasformarlo perché siamo degli artigiani, io mi considero un artigiano che trasforma le materie, però il bravo artigiano è quello che non deturpa la materia.